Visita istituzionale del sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea del Mastro delle Vedove al carcere di Teramo. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di fare il punto sulle difficoltà oramai croniche della casa circondariale. A distanza di anni i temi restano gli stessi perché poco o nulla è cambiato, a cominciare da quel sovraffollamento che fa dell'Istituto Teramano uno dei più pieni d'Abruzzo e d'Italia, con i suoi quasi 400 reclusi a fronte di una capacità di poco più di 200. Ma oltre alle criticità legate al sovraffollamento c'è anche il problema del numero ridotto di agenti di polizia penitenziaria. Ha potuto toccare con mano la situazione del carcere di Teramo? Come si risolve questa problematica? Ormai è diventata cronica. Guardi, sulla carenza di organico le posso dire che nella prima finanziaria del governo Meloni, pur in un contesto di sangue e guerra finanziaria e con una guerra vera alle porte dell'Europa che ci ha imposto di dirottare buona parte delle risorse per consentire a famiglie e imprese di galleggiare, abbiamo provveduto alla mille extra assunzioni di agenti della polizia penitenziaria che impatteranno anche sulle piante organiche. Nel frattempo 1479 agenti del 181esimo corso atterreranno negli istituti penitenziari a brevissimo perché è terminato il corso. Abbiamo già fatto un altro corso per 1758 allievi, ho bandito un extra corso per 1500 allievi, faremo lo scorrimento delle graduatorie per 250 allievi e quindi la risposta sulla carenza di organico, ovviamente poi con la necessità di fare i corsi di formazione, però si deve pur sempre cominciare, è quella di 1500 più 1758 più 1479 che atterrano più le mille extra assunzioni. Mi pare una buona risposta in quattro mesi. Il sottosegretario è stato accompagnato anche dal presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, con cui ha affrontato il problema dell'assistenza sanitaria alla popolazione carceraria. Mandare in diversi ospedali della regione i detenuti che hanno bisogno di ricovero moltiplica i turni, il personale che poi deve uscire per andare a piantonare dentro gli ospedali, fare i trasferimenti e questo sta pesando molto sull'economia generale delle scarse risorse umane disponibili. Per questo mi è stata fatta questa richiesta, io ho investito del problema all'assessore alla salute Veril, il direttore generale Ciamponi, insieme agli altri direttori generali, perché questa questione deve essere risolta. Abbiamo attivato questa procedura e quindi io penso che nel prossimo futuro, da qui a non molto tempo, potremo riaprire questo repartino e aiutare la polizia penitenziaria a ottimizzare le risorse.